buongiorno senta mi servirebbero delle aspirine si eccoli qui e vabbè che me le faccio di tutte queste aspirine beh deve capire che noi facciamo tutto la grande però pagherà come piccolo serve altro eh sì mi servirebbe del disinfettante sì eccolo qui e io cosa me ne faccio in tutto questo disinfettante beh le ripeto che noi facciamo le cose alla grande però pagherà sempre come piccolo eh serve altro eh sì no cioè mi servirebbero delle supposte sì però vado un'altra parte a prenderle le posso vendere un formato famiglia ma io famiglia non ne ho vabbè se le mette tutte da solo no